Amanti delle eleganze e delle buone maniere, ben ritrovati sul canale, se siete nuovi benvenuti. Oggi parliamo di shopping, questo è un argomento che riguarda praticamente tutti. Se volete migliorarvi a livello di eleganza e di approccio alle buone maniere, dovete cercare di evitare 5 errori che sono comuni sui quali è bene soffermarci un attimo. Prima di iniziare a parlare di shopping e degli errori che si commettono, vi invito ad iscrivervi al canale. Mi raccomando, ricordatevi sempre che il vostro supporto è essenziale perché questo canale possa continuare a produrre contenuti interessanti per voi. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, lasciate i vostri like e condividete questi contenuti con le altre persone. Questo tipo di riflessione ci aiuta a lavorare sul nostro stile, sulla nostra eleganza e anche su un approccio alla sostenibilità. Per me e spero anche per voi, la sostenibilità si appoggia ad un principio fondamentale, cioè quello del non spreco. E quindi capite come si possa ricondurre il discorso appunto al parlare del fare shopping in modo elegante. Il primo errore che mi accorgo che le persone fanno spesso è di effettuare gli acquisti, soprattutto quando si parla di acquisti per l'abbigliamento ma anche per la casa. Non si considerano mai i materiali di cui sono costituiti i prodotti che andiamo ad acquistare ed è un errore gravissimo perché se voi perseguite uno stile elegante e volete crearvi un guardaroba o arredare la vostra casa in modo elegante, raffinato e pregiato dovete assolutamente fare attenzione ai materiali. Quali sono i materiali da prediligere? Ovviamente le fibre naturali, cotone, lana, lino, volendo alzare un po' la sticella, il cashmere, la seta, ma senza per forza dover andare a ricercare materiali pregiatissimi anche per esempio la viscosa va benissimo. Il fatto che soprattutto nell'abbigliamento alcuni indumenti abbiano dentro una piccola percentuale di elastane va bene perché aiuta e serve alla vestibilità va benissimo. Per piacere evitate il poliestere. Qui non mi dilungo ma ce ne sarebbe da dire parecchio. Non è una fibra versatile a meno che non si parli di abbigliamento per lo sport. Evitate il poliestere e in generale fate sempre attenzione ai materiali e poi eventualmente anche alle lavorazioni, ma questo è un altro discorso, che compongono i vostri capi di abbigliamento. Il secondo errore che si tende a fare perché fa gola, perché siamo persone influenzabili è quello di seguire a tutti i costi la moda, ma non è assolutamente un approccio elegante, perché non sempre la moda propone abbigliamento che ci dona, che ci valorizza, che ci sta bene. Quindi bisogna andare a fare shopping tenendo in considerazione il proprio carattere, la propria personalità, che sono gli elementi che influenzano il nostro stile e quindi fare degli acquisti in maniera oculata tenendo presente questo fattore. Voi sapete che c'è stato chi prima di me ha detto che la moda passa, lo stile resta, questo qualcosa sicuramente significa. Benvenga la moda quando ci aiuta e ci dà soluzioni per esprimere al meglio la nostra personalità, ma non a tutti i costi, perché a volte si vedono in giro anche delle mise che lasciano un po' a desiderare. Il terzo errore che si fa è quello di appunto non considerare la sostenibilità che si lega poi a un discorso sull'eleganza. Per piacere mettetevi nell'ottica di idee di fare pochi acquisti ma buoni. Non va bene sprecare, non va bene per il vostro portafoglio, non va bene per l'ambiente e non va bene per il vostro stile. Perché la tentazione, quando ero ragazzina anch'io mi facevo tentare da questa cosa che sarebbe una politica di marketing, diciamocelo fuori dai denti. Ah ma tanto costa poco e carino lo prendo. Poi quel capo lo mettete due volte o perché passa di moda o perché è fatto di materiali scalenti e quindi alla fine perde di vestibilità. O perché scoprite che avendo fatto un acquisto di impulso non avete riflettuto bene sul fatto che vi potesse stare bene e quindi non lo mettete più. Aumentiamo i rifiuti, aumentiamo le nostre spese e diminuiamo il nostro modo di essere eleganti, ben vestiti. E tutto questo va contro la qualità che è un elemento fondamentale sia per l'eleganza, sia per le buone maniere, sia per lo stile, qualsiasi esso sia. Il quarto errore è farsi influenzare troppo dal prezzo. Anche in questo caso siamo influenzabili, prezzi bassi attirano di più la nostra attenzione e la tolgono però, quindi la sottraggono da altri aspetti che invece è importante valutare. Quindi mi raccomando non fatevi influenzare dal prezzo. Allo stesso modo anche quando il prezzo è altissimo, si pensa che spendere tantissimo sia garanzia di qualità, non è sempre così. Quindi mi raccomando il prezzo si va valutato ma mai fine a se stesso. Dovete sempre rapportarlo alla qualità, alle vostre esigenze, alla durabilità per esempio di un capo. Quindi fate in modo che la vostra spesa sia un investimento e non qualcosa a perdere. Il quinto errore che si commette sovente è quello di non avere le idee chiare in partenza. E cioè voglio acquistare un qualcosa, supponiamo una giacca. Prima di entrare nel negozio, prima di collegarvi online, prima di prendere qualsiasi decisione, dovete avere le idee, non dico chiarissime, ma perlomeno una base di chiarezza deve esserci. Perché anche qui ritorniamo a considerare il nostro aspetto di influenzabilità. Nel momento in cui entriamo in un negozio ci facciamo influenzare da ciò che vediamo, da ciò che ci possono dire le commesse, da ciò che la moda propone. Ma noi in primis dobbiamo avere le idee chiare perché altrimenti il nostro acquisto potrebbe rivelarsi sbagliato. Capita no a volte di entrare in un negozio pensando mi devo comprare una giacca e usciamo con un paio di pantaloni. Non per forza deve essere un qualcosa di sbagliato perché magari avevamo bisogno anche di un paio di pantaloni. Ma viviamo in una società del consumismo, viviamo in una società dove purtroppo un po' per colpa del fast fashion, un po' per colpa del fatto che le mode cambiano in continuazione, gli stimoli e le influenze alle quali siamo soggetti sono parecchie. Se non abbiamo le idee chiare rischiamo di fare dei passi falsi. E avere le idee chiare in tal senso serve anche per crearsi un guardaroba coerente. Quindi l'acquisto che andiamo a fare non deve soltanto sposare il nostro stile, ma deve essere anche, anche qui, un capotebbigliamento, un accessorio per la casa, che si sposi a quello che già abbiamo. Perché così si crea armonia e si rafforza il nostro stile. Durante lo shopping si fanno tanti altri errori, ma per oggi direi che può bastare. Io spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi i vostri like, iscrivetevi al canale, ricordatevi che potete anche salvarli i video per averli a portata di mano nel momento in cui ne avrete bisogno. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.